Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini scrive questo. Arrestato Natale Errigo, membro dello staff del commissario Arcuri, con accuse pesantissime di legami con le cosche. Serve chiarezza immediata e sorprende il silenzio tombale del governo e in particolare dei 5 Stelle. Tutto normale? Quindi l'inchiesta dei pubblici ministeri di Catanzaro e soprattutto di Nicola Gratteri, che ha portato all'arresto, tra gli altri, di Natale Errigo, consulente di Invitalia e membro dello staff del commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, arriva ad un passo dall'esecutivo nel silenzio generale. A Matteo Salvini questo silenzio non è piaciuto e scrive il post che vi ho prima letto. Ha creato molto fermento queste dichiarazioni di Salvini, queste richieste di chiarimento su questa vicenda. Secondo quanto scrive la Direzione Distrettuale Antimafia, la DDA, è destinatario di una misura cautelare in carcere, cioè è stato arrestato e portato in carcere, per il reato di scambio elettorale politico mafioso. Risulta essere stato nominato nella struttura del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e fa parte del team per la gestione della distribuzione, cui è affidata per l'appunto distribuzione di prodotti mascherine, dispositivi vaccino, anti-Covid e contratti con i fornitori e strutture destinatari. Quindi è un lavoro decisamente importante. Beh, a questa nota ne è seguita una della Invitalia, che è l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, che è di proprietà del Ministero dell'Economia, di cui questo Errigo è anche consulente. Il comunicato stampa di Invitalia dice Errigo aveva la qualifica di impiegato di terzo livello, ruolo da cui è stato sospeso, sia dalle funzioni che dallo stipendio. Sempre Invitalia fa sapere che è già stato avviato un audit interno e che non sussiste alcuna relazione né alcun rapporto economico o contrattuale tra le persone fisiche e le persone giuridiche oggetto delle indagini e la struttura del commissario all'emergenza. Ma Salvini chiede che il governo prenda posizione, batta un colpo, dica qualcosa, che i Cinque Stelle dicano qualcosa. In realtà il silenzio è stato assolutamente totale. Ecco, un silenzio assolutamente totale. Ma intanto possiamo dire che ci sarebbero delle mosse segrete di Conte perché adesso punta su un suo partito cambiando notizia. Le voci che arrivano dal PD è che la verità è che sta cominciando a muoversi per costruire un suo partito. Quindi Conte si prepara ad avere un suo partito. Ma è una voce di corridoio, una semplice voce di corridoio? O questa ipotesi realmente sta prendendo piede? Beh, sono mesi che se ne parla. Il primo nome del partito di Conte era Conte. Lo stesso Beppe Grillo proprio l'altro giorno ha messo una foto di Conte con scritto Conte, proprio indicando di farsi un suo partito. Del resto la situazione nel governo, malgrado la risicata maggioranza, rimane abbastanza infuocata. La relazione di Alfonso Bonafede che ci sarà mercoledì. Beh, a Palazzo Chigi Conte sta cercando in fretta e furia di cambiare la legge elettorale così da mettere i bastoni fra le ruote al centro-destra. E così Conte ha bisogno di un piano. Se il governo non va avanti, ci sono molte altre opzioni per lui. Beh, il PD dice o si fa la quarta gamba o si muore. Ovvero, non restano che le elezioni. C'è anche chi dice la verità e che Conte sta cominciando a muoversi per costruire il suo partito, per continuare a governare o per andare alle urne. Si starebbe dunque avvicinando alle elezioni? Ci stiamo avvicinando alle elezioni? Secondo la 7, ad esempio con i loro sondaggi, il partito di Conte potrebbe aspirare a un 15-17% ottenendo la maggior parte dei voti da ex 5 stelle, da 5 stelle dal PD. Beh, per i suoi alleati sarebbe un disastro totale, perché immaginatevi un 16% significherebbe un 8% in meno al PD che arriverebbe intorno all'11%, immaginatevi il centro-sinistra che diventa l'11%, praticamente ormai irrilevante. Il Movimento 5 Stelle passerebbe a un 8%, 8% andrebbe verso la fine, verso la scomparsa. Se quell'8% poi immaginate che il primo governo che va su cancella il reddito di cittadinanza, quell'8% è destinato a diventare un 2%, ecco, un partitello alla Renzi. Questa è la realtà e quindi diventerebbe, nascerebbe questo governo di Conte che potrebbe essere un partito di centro. Quindi avremmo, dall'altra parte, un centro-destra con il 48%, avremmo un partito di centro il 16%, più magari Calenda, dall'altra parte avremmo un centro-sinistra al 10%, sommandogli poi qualche altro partitello magari al 12-13%. Quindi sancirebbe quasi la scomparsa della sinistra italiana, perché ricordatevi che il PD è la somma di diversi partiti, non è un partito solo, è la somma di diversi partiti. Il PD era come il PDL nel centro-destra di Berlusconi, quindi ricordatevi che il PD non è un partito che scende al 10%, è il centro-sinistra che scende al 10%. Però queste sono delle ipotesi, delle supposizioni, vedremo quello che succederà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e siamo anche, come vi dicevo, in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Nella community poi trovate dei sondaggi ai quali potete partecipare e commentare. Grazie e tra 20 minuti circa sarà disponibile un altro voto. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.